Ho sempre amato il Natale, ma se sei una mamma è un gran casino. Sì, tra impacchettare, fare compere, cucinare, decorare. Oddio, fallo smettere, ti prego. Alla fine non hai praticamente il tempo per godertelo. È solo una cosa. Oh no. Che succede? Può renderlo ancora più stressante. Mia madre viene qui per Natale. Oh, porca di quella puttana! Mamma! Ciao, mamma! Mamma, mamma che cazzo ci fai qua? Volevo stare con la mia piccola Pasqua. Natale. Natale. Voglio dare un party di Natale. Dove? A casa mia? Sì, e ho invitato 184 persone. Sono una donna di 34 anni e lei ancora mi dice come vivere. Sarai la mia migliore amica per sempre! È normale? Mia figlia pensa che io sia dura con lei, ma io ho avuto una madre orribile. Una volta mi ha preso schiaffi perché avevo i tacchi su una barca a vela. Erano altri tempi però. Era due mesi fa. Il Natale deve essere un piacere. Riprendiamoci il Natale. Il culo mi fa male, mi riprendo il mio Natale. Mi è venuta come volevo, ma avete capito. Sì, abbiamo capito. Diciamo che avrei un appuntamento con babbo numero due. Dove l'hai conosciuto? Gli ho depilato l'uccello. Posso spalancare le chiappe se vuoi. Nessuno mi aveva mai chiesto se poteva spalancare le chiappe per me. Ah, che cosa romantica! Romantica! No! 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 Grazie a tutti